Un modo per abbattere qualche pregiudizio, diciamo da chiudiamo i porti a apparecchiamo la tavola? Ma io credo che sia una bella occasione di incontro, sarà una giornata proprio nel segno dell'incontro tra le persone, tra le storie, tra le culture in una città che vogliamo sempre di più essere la città della relazione tra storie diverse e una città senza muri. Quindi anche un messaggio diverso rispetto a quello che sta facendo il Ministro dell'Interno comunque? Ma magari lo convinciamo e viene anche lui. Ma ci sono problemi con il governo per il sostegno all'iniziativa del Comune di Milano sui immigrati? Assolutamente, non c'è nessuna interferenza in questo momento.